Guardi, io penso che Una giornata particolare è uno dei film più belli del cinema italiano, secondo la mia opinione. Uno dei più belli, dei più straordinariamente intensi, poetici, con questo rapporto tra lo sfondo, diciamo, che è questa giornata appunto trionfale del fascismo italiano e questa delicatissima vicenda umana che si svolge tra la Lorena e Mastroianni. Però non c'è dubbio che c'eravamo tanto amati, è un'epopea della nostra storia, ecco, quindi da questo punto di vista è un film che ci è piaciuto perché racconta un pezzo della nostra vita, ecco, quindi ho bisogno di citarne due, ecco, questi due.